buon pomeriggio e scusate l'ignoranza mi mangio questa caramella è l'unica alla vostra salute anche ai nemici storici ma allora c'è stato sto sorteggio di europa leggo ma scusa perché vi agitate tanto tanto la juve scarsa non la vince non la vince sta coppa voi dite che sono io voi dite che sono io che mi monto la testa porca puttana ho aperto youtube sorteggio sorteggio ah ma allora anche lo juventino che chiama scarsa la juve ci crede ma è normale che ci devi credere sei la e non lo ti dai il frisburgo lo ti dai il frisburgo come cazzo si chiama ti da l'azza da prima o poi le devi incontrare tutte se me sei come un napoli non è come un napoli mo batte il fango forte dopo ci saranno le big la stessa cosa la strale forte secondo alcuni tifosi secondo la classifica in bremer league ok l'arsen arriverà molto probabilmente in finale insieme al manchester e probabilmente la juve che cazzo a semifinale ci arriverà sta juventus non dico in finale semifinale ci arriverà sta juventus o no che state la sperare a fare scusa che vi preoccupate a fa poi mi raccomando e continuate a fare i video che l'allegretti sono scemi bravi continuate continuate a fare i video non è che noi ci uniamo più di prima no continuiamo a darci contro tra tifosi e tifosi continuate chi dice che non è scema la chi dice che non è scema a destra chi dice sei uno scema a sinistra tu non sei buono no perché io capisco più di calcio di te e continuate a fare il barzelletta barzelletta youtube barzelletta non lo so veramente cioè è tra tifosi e tifosi della juve c'è barzelletta barzelletta su barzelletta e che stiamo parlando ancora allegri non è ancora ho fatto un video riguardo ancora non si chiama esultare perché ha vinto allegri porca di una madonna porca di una madonna scusate ma quando ci vuoi ci vuoi ma non si chiama esultare per la juventus perché ha vinto allegri la juve vince il seno tre devi esultare testa di cazzo se no non sei juventino come danno a far capire con le cucchiai d'accia più le cucchiai tieni come d'accia a far capire devi esultare testa di che cazzo e se vuoi vi faccio pure nome e cognome sciami sei ancora ma è semplice quando la juve vince noi non è che veniamo qui eh adesso a lei no noi veniamo qui esultiamo perché la juve ha vinto poi se non ci arrivate che giustamente tenete una certa età capelli bianchi e barba bianca tenete una certa età a dipingare la pensione dovete andare a prendere la pensione non è colpa nostra arrivederci mamma mia ecce di cagato cazzo